Konichiwa e benvenuti a tutti quanti voi qui nelle JAP News per quanto riguarda questo mese di aprile 2018 in collaborazione con Element Gaming, una grande community multigaming italiana in continua evoluzione nell'ambito videoludico Partiamo subito con la prima news che riguarda Impact Winter A distanza di un anno dal suo debutto su PC, Impact Winter, sviluppato da Mojo Bones e pubblicato da Bandai Namco si renderà disponibile anche su PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani 5 aprile Si tratta di un survival game ambientato in un mondo ricoperto interamente dalla neve in cui avremo il compito di aiutare Jacob e la loro squadra di 4 sopravvissuti rinternati dentro le mura di una chiesa cercando di rimanere in vita finché il timer dei soccorsi non si sarà azzerato Capacità di adattamento e gestione di squadra saranno elementi cruciali per sopravvivere senza dimenticare l'aiuto dell'amico robot Akko Light con il quale sarà più facile scavare e trasportare provviste, esplorare nuove aree e illuminare edifici bui Vi ricordo infine che Impact Winter rotorerete sui scaffali a partire da domani 5 aprile per PlayStation 4 e Xbox One Passiamo subito alla seconda news che riguarda Galgan 2 il nuovo capitolo del partitore sparato giapponese di Inti Creates e pubblicato da P-Cube Nel videogioco interpretiamo uno sfortunato liceale che all'improvviso diventa l'oggetto desiderio di tutte le studentesse della scuola Queste si fionderanno letteralmente contro il nostro eroe consergendo a difendersi con un'arma a fermoni in grado di donare euforia ai belzai che vengono colpiti Dopo il successo commerciale riscosso dal precedessore Galgan Double Piece il nuovo capitolo di Galgan sarà disponibile in esclusiva per PlayStation 4 a partire dal prossimo 13 di aprile Ed eccoci subito giunti alla terza ed ultima news per quanto riguarda questo mese di aprile 2018 che riguarda Yakuza 6 The Song of Life Dopo un piccolo rinvio finalmente alla versione occidentale di Yakuza 6 The Song of Life si prepara a debuttare sul console PlayStation 4 il prossimo 17 aprile Stiamo parlando del capitolo finale con protagonista Kazuma Kiryu il dragone di Dojima nella sua ultima intensa avventura il paulista della serie scorrà quante persone sono disposte a sacrificarsi per la famiglia Fresco di una condanna di 3 anni un vecchio Kiryu viene a sapere che sua figlia Haruka è scomparsa dall'orfanotrofio a rendere cose ancora più complicate Haruka ha un figlio di cui lo stesso Kiryu dovrà prendersi cura mentre cercheremo di smascherare un terribile segreto che la Yakuza di Hiroshima sta tentando di nascondere Yakuza 6 presenta un nuovo motore grafico con dettagli precisissimi, animazioni realistiche e paesaggi interattivi i minigiochi come karaoke, le gabbie, le freccette, le hostess sono stati migliorati per il massimo del divertimento e sono state fatte nuove aggiunte tutte da scoprire ritornano nuove combo come la Hit Action e l'Extreme Hit Mode dove il dragone in Dojima riempiendo una barra potrà scatenare una serie di combo devastanti mai viste prima infine Yakuza 6 del Song of Life è in uscita in esclusiva per PlayStation 4 il prossimo 17 aprile e con questo le news che riguardano i videogiochi giapponesi qui in Europa da noi per quanto riguarda questo mese, aprile 2018 termina qui ovviamente sempre in collaborazione con Element Gaming io spero che vi sia piaciuto queste news di questo mese da vostro Giappogamer è tutto, sayonara e ai prossimi video Grazie a tutti